Olè! Taratatatata! Ho trovato laggiù! Oh my god! Oh my cari lama! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Oggi siamo di nuovo su Minecraftita sesta stagione E ho aggiornato Alla 17v13b Che hanno fixato alcuni bug tra cui Quello dei raggi del beacon è stato fixato Infatti ecco qua i raggi che si vedono là e qua Si vedono anche Ho lasciato qua, il mondo è perfettamente funzionato Sia chiaro? Ho lasciato, poi vi faccio vedere un altro bug che è stato fixato Questo qua Delle teste, ok? Attualmente le teste sono di nuovo funzionanti E visibili soprattutto Ho riprovato il bug di duplicazione e funziona ancora Quindi ancora C'ho sta roba qua E può essere ricreata infatti vedete Una quantità eccessiva di beacon forse però Per ora, lasciamo così Esatto si 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 è funzionante Non ho visto se il bug dell'autocrafting è stato risolto Lo proveremo magari insieme In tutti i casi oggi dobbiamo andare a fare alcune cose Guardate un po' Mi serve Volevo prendere l'elitra E prendo un po' di pelle Ma il problema è il seguente 35 No oddio 35 non è tantissimo Oddio 35 costa solo 35 Potrei ripararla 33 34 35 35 Ma sapete che Ma sapete che Io la riparo Volevo fare un altro tipo d'episodio Devo essere sincero Ma A sto punto Direi che può andare bene così Ma va decisamente bene così Perché E io posso farmela tranquillamente l'esperienza Nel senso ho una possibilità Devo andare prima Ma porca Ecco le scalette Questa è un'altra cosa che mi avete detto In 6.000 E che io ancora non ho fatto E che dovrò fare il prima possibile Perché vi giuro Danno fastidio cane Allora L'idea è che adesso io vado a prendermi Sti 35 livelli Mi canto l'elitra E poi vorrei andare a vedere Se riesco a trovare una giungla Per i pappagalli Ok Dopo aver passato diverso tempo a FK Il cane ha pensato a fare il resto Io direi che ce ne potremmo ritornare su Ma devo passare per forza Da st'altra Anzi Non ho la pelle dietro Quindi no Niente Passiamo di qua Tac Hop Hop Riesco a fare una Sì una roba del genere Dovrei riuscire 1,2,3 Non so perché qua lo tengo chiuso Ma perché mi piace Tenerlo chiuso Cioè nel senso Non si vede Almeno sta scala di questa Scala di servizio Ben o male Che quando non ho enderpearl Posso prendere E tornarmene fuori Anche per non sprecarle Per carità Ok Che ne abbiamo parecchiucce Abbiamo una farm di enderpearl Quindi non c'è problema Per sta roba Però Ben o male Dorei Risolvere il problema In tutti i casi Adesso Cioè Dorei abbellirla un po' La situazione La scala Perché così è Troppo rude Qui ci sono pecore Che viaggiano Riesco Si sono buggate Mille mila pecore Cioè da lì Si sono riprodotte Come bestiole E sono uscite Dappertutto Vi giuro Fanno come gli pare Una volta erano Molte di più Vabbè Fotte se Eccoci qua E siamo pronti Siamo pronti a Sistemare la nostra Elytra Prendiamo la pelle Prendiamo il tutto Mettiamo l'Elytra E uno Due Tre Quattro Quattro pezzi di pelle Elytra riparata Al cento per cento Abbiamo veramente finito I livelli però Non ci interessa particolarmente Adesso lasciamo questo qua Vorrei prendere La gunpowder Ce l'abbiamo Abbiamo anche parecchi razzi Che facciamo? S'avà? S'avà con uno stack di razzi E ventiquattro Non stack di razzi Vventiquattro pezzi possa bastare Ci mettiamo su un'altura E poi ci buttiamo Per Per partire Epp Qui già va bene C'ho l'Elytra equipaggiata Bim Buono così Adesso in che direzione andiamo? Allora In quella Da quella parte So perfettamente Che non c'è niente Da questa parte Potremmo tranquillamente andarci Sì Penso di qua Potrebbe essere una saggia decisione Ora Dovremmo fare due blitz Perché Ci stavo ripensando Qual è il problema Il problema è il seguente Non abbiamo Io non ho la cosa Non ho i biscotti Non ho neanche il cacao Per farmarli Quindi l'idea è proprio Andare a trovare Una giungla Prendere del cacao Farmare un botto di biscotti E poi andare a riprendere Di nuovo I nostri cari amici Pappagalli Perché gasano i pappagalli Con E con i biscotti Oh guardate che figo Guardate che figo sto villaggio Ma quanto gasa C'è anche una casa del fabbro Magari troviamo qualche diamante Gas ha fatto così il villaggio E' figo Un botto Ma veramente Particolare Una sella Pezzi di pane Il ferro No ti prego L'ossidiana Vabbè Dai Dai Poteva andare peggio Poteva andare peggio Figa sta cosa Guardate quanto è figo Sì anche tipo Atterrazzamenti Bello Particolare Mi piace Hop Via Si riparte signori Taratatata Ho trovato la giung Non è giungla No questa non è giungla Cazzo questi sono il dark walk Madonna che palle Cazzo ero convinto di averla trovata Vediamo se c'è una casetta del fabbro Non c'è il fabbro Quindi neanche ci fermiamo Qua E continuiamo Io avrei trovato i lama Ma non si addomesticano i lama Vero o no Oh my god Oh my god i lama Ho 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 Che figata Che poi quelli piccoli seguono la mamma No è bellissima sta storia Però sono tipo stralontano da casa Oddio si 3000 blocchi No 3000 Eh 3000 blocchi dai come faccio Tipo Adesso fai così Metti la sella Ah il tappeto ci va poi sull'ama Manco la sella Eh vabbè Niente I'm so sorry Ma non posso Qui ci sono Eh 3000 3000 cose di distanza È strano Cioè è difficile Portarselo a casa Io con l'elitra ci metto 30 secondi Con lui ci metto 20 anni Perché torna un po' Con l'ama a casa Fatti 3000 blocchi No non è proprio proprio La mia massima aspirazione Devo essere sincero Lì c'è anche un altro tipo di lama Vabbè E niente Continuiamo la nostra gita Sono approdato in un villaggio della savana Cioè la prima volta Che mi capitava È esploso qualcosa È esploso un creeper Sì è esploso probabilmente un creeper E è strano Tutti sti villaggi strani Sono particolari Perché il legno cambia In base al bioma In cui si trovano Ed è carina come cosa È molto molto carina Volevo andare a vedere intanto Qua la casa del fabbro Sempre Facciamo un po' di razzie Un'armaturetta Io me la prendo Sa Come non fa mai male Qua dentro Ovviamente nelle fornaci Non c'è niente Non regolare Non ci deve essere niente Non ci sono altre cesti interessanti Qua perché Praticamente il villaggio Contiene roba solo nella casa Del villi Del coso Allora noi qua siamo messi male Ma veramente male Perché Mh Proprio male Via Perfetto Siamo messi veramente male Perché sono in una In una cosa Sarana E qui non c'è Proprio La minima traccia Di una Come si chiama Sì della giungla Esatto Qui poi non carica Ok sto caricando Qui c'è il mare Quindi continuerò in questa direzione Non sono lontanissimo da casa Perché ho girato Sono praticamente Questa è dietro La zona Del portale Del land Ok E' tipo da ste parti Ci siamo passati prima Continuo A girare un po' Tra poco Direi di tornare a casa Perché se no Qua non ce la facciamo Oh due metri più là Eh L'altro villaggio Questo è un villager zombie Che morirà male Perfetto Altro villager zombie Ah qui ci sono anche delle librerie Questi le hanno massacrati Proprio Sti bavosi Morite Ok Volevo la casa del fabbro Eccola qua Sì questi sono stati proprio distrutti Ma massacrati male Ma quanti cazzo eravate Oh poi lagga sto cosa No 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 Bonif Aspettate Ah ok sta sorgendo il sole Grazie a dio Ma guardate quanti erano Era un botto Mori mori Morite tutti Ecco Così li dovremmo uccidere easy Anche se Ma guardate quanti erano Cioè apparentemente abbiamo distrutto un villaggio L'abbiamo spopolato In verità l'hanno distrutto gli zombie Poi l'ho ripulito soltanto È tipo un'infezione Ok Niente di particolare Un po' d'ossidiana In alta l'aromatura Tutto in Apparentemente tutto tutto in ferro Vabbè È tutto ferro Sì ovviamente I diamanti sono rari Da quanto ho capito Non si trovano più gran che E non c'è verso di trovare sta giungla Porca miseria Via ce la faccio Sei buono Siamo partiti E io mi rimetto in viaggio Fortuna che sta spuntando anche il sole Ora volete vedere una cosa figa Già che il piove nel deserto è strano Ma la cosa bella La facciamo adesso Guardate un po' eh Mi serve un pezzo di sabbia Guardate 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 Olè Ok Perfetto Eccoci tornati a casa ragazzuoli Ho fatto Il giro Ho dovuto anche fogliore l'eli Tra me erano rimasti 44 utilizzi Che sono effettivamente molto pochi Ho soltanto Che cosa ho fatto Praticamente Sono arrivato alla zona Quella Un po' prima in verità Della zona Con Con l'oro Cioè la vecchia Città dell'oro Mi sono preso il portale Il nether E sono venuto a casa Easy Veramente molto easy Come cosa Mi dispiace non aver trovato La giungla Quello che cercavamo Visto che da quella parte Proprio non c'è verso Non si trova Questa sarà la missione Find Pappagallo In my mezzo inglese Parrot Sarebbe in inglese Però lo chiamiamo Find Find a pappagallo No è terrificante Il progetto Pappagallo No non lo so Volevo trovare un nome Simpatico Vediamo se ci riesco Va bene Detto questo Detto questo Dovremmo finire anche Quella zona lam Però certo Sono attratto Da sta cosa di diamanti Madonna Sono veramente attratto Da sta cosa di diamanti Vi giuro È mostruoso È una cosa che ti attira Da quella parte E che Deffi che è tanta roba Ragazzi Veramente Veramente tanta roba Comunque Ragazzuoli Penso che per questo video Possa essere Tutto Non abbiamo trovato La giungla Niente Se qualcuno di voi Ha la minima idea Di dove possa essere Beh fatemelo sapere Perché Io ho un pappagallo Una bella voliera La farei volentieri Comunque ragazzuoli Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Di lasciare mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se non avete fatto Di condividere il video Su Facebook E farmi lasciare le persone Mi raccomando Passate in tutti i link In descrizione Facebook, Instagram E Telegram E diciamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi